Te lo dirò solamente una volta! Togliti dai binari! Sono sulle stesse rotaie su cui si trovavano i miei uomini. Non possono essere passati attraverso le carrozze. Cosa avranno fatto i miei ufficiali? Quello deve essere uno degli amici di Nico Robin. Credo sia lo spadaccino cacciatore di taglie. Questa è una delle strade che conduce alla giustizia. Io sono un capitano della marina e non vivrò nel disonore. Preparatevi! Presto quel treno sarà tranciato in due. Sin te non ci conterei. La nostra destinazione è ancora lontana. E tu ci stai intracciando il cammino. Non sembra spaventato. Ti aspetto! Disprezzo coloro che hanno abbandonato la retta via! Volo ad angolo retto! Tecnica a tre spade! Toro demoniaco! Buon uccello impetuoso! Com'è possibile? Zoccolo travolgente! Un uomo in mare! Vado proprio a ammettere che questa volta non è stato semplice. Ora! Ora! Ora!